Uno, due, tre... Non me lo ricordo. Non sono preparata su questa nuova. Sono Isabella Voasso. Emanuele Palazzo. Francesca Camusso. Insegno filosofia e storia al liceo classico. Lingua e letteratura francese. Insegno italiano. Scienze naturali. Gli studenti sono estremamente spontanei. Gli studenti sono troppi. Delle frecce. Sono molto curiosi, ma allo stesso tempo sono tanto impazienti. I miei studenti mi hanno insegnato l'empatia. A mediare, a trovare soluzioni flessibili. Sospendere il giudizio e mettersi alla pari. Che uno capisce bene una cosa soltanto quando è in grado di spiegarla. Insegnare è continuare a studiare e a imparare. Insegnare è una bellissima fatica. È far sbocciare un giardino. Insegnare per me significa creatività. Utile, bellissimo, imprescindibile. Insegnare è condividere, crescere, ricercare. Faccio il lavoro che faccio perché non c'è cosa più bella di condividere con gli altri quello che si sa. Perché non sempre i ragazzi capiscono, ma quando lo fanno vedi i loro occhi brillare ed è veramente una soddisfazione enorme. Perché mi piace l'apprendimento, vedere l'allievo che apprende. Perché ho voluto essere quello che erano stati i miei insegnanti per me durante gli anni del liceo. La reciprocanza è accorgersi che non siamo soli. Osmusi. È una mano che dà e una che riceve. La solidarietà per me è pensare non solo a se stessi, ma esserci sempre per gli altri. È aprire gli occhi e dare una mano. Faccio. Grazie. Le farò sapere.